A un Parlamento che boccia la parità di genere, noi dell'Italia Valori rispondiamo con una proposta di legge che elimina la riforma Fornero, che ha creato danni sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, crea nuova occupazione la nostra proposta e consente alle donne di avere pari dignità anche nel mondo del lavoro. Innanzitutto eliminiamo le dimissioni in bianco per le donne lavoratrici, una prassi vergognosa che esiste solo nel nostro Paese, istituiamo anche un'indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici. Dopodiché consentiamo con i contratti flessibili la possibilità a chi vuole di andare in pensione prima, aprendo il posto di lavoro ai giovani che vorranno trovarlo e quindi nuove opportunità di lavoro. La nostra proposta di legge prevede quindi non tanto di parlare della riorganizzazione del lavoro, che peraltro non c'è, il 41% di disoccupazione giovanile lo dimostra, ma la nostra proposta mira a creare nuova occupazione. Con questa proposta, su questa proposta raccogleremo le firme in tutte le piazze italiane e la metteremo a disposizione anche del governo Renzi per verificare in concreto se oltre allo spot si vuole riempire anche di contenuti quella che è la proposta.